Il mio lavoro è stato un lavoro di un'altra parte. Il mio lavoro è stato un lavoro di un'altra parte. Non c'è un lavoro di un'altra parte. Il suo lavoro è stato un lavoro di un'altra parte. Oya, rimane di ascoltare qualcosa di nuovo. Facciamo un salto da caso musicale. Dai, almeno non ascolto sempre la stessa roba. Sì, perché se non fosse per me ancora l'ascolto deve essere vittimati. Sì. Bella scelta, degli ottimi costi musicali. Grazie, l'hai prenotata te? Sì, ma poi prenderlo tu. No, dai. Dai, insisto, tanto sicuramente ritornerà. Ok. Comunque, se vuoi possiamo ascoltarli insieme, effettivamente. No, guarda, devo andare. Perché non hai comprato più nulla? Non mi andava più. Oggi al negozio ho visto che parlavi con una ragazza. La conoscevi già? No. Gli piaceva coginiere e li l'ho lasciato. Mi hanno anche proposto di ascoltarli insieme, ma forse ne è andata. Strano. Dai, perché è strano? E sicuramente per migliorare le mie condizioni. Dai, Manu, magari è soltanto una ragazza che se la tira o è fidanzata. Ma le cose cambiano. No. 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 Abbiamo adottato una nuova decisione, dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa e per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione io resto a casa. Manu, ma hai sentito la notizia? Finalmente si può uscire. Era l'urba, adesso mando un messaggio bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.